La chiusura a Riccio, già dimostrata dai funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico, fa tremare le vene ai polsi e 469 lavoratori della Filanto. Col fiato sospeso, loro e i 96 operai della Unfesa di Trepuzzi, per entrambi oggi, è il giorno dell'attesa più lunga, con i destini delle loro aziende appesi ad un filo sull'asse Salento-Roma. In 200, in presidio presso il municipio di Casarano, in attesa dell'esito del tavolo interministeriale è convocato in mattinata, previsto per le 11, ancora ad avviare alle 13.30. Loredana Capone, assessora regionale allo sviluppo economico, non ha nascosto i toni preoccupati. Partiamo da una chiusura netta che ci hanno dimostrato il 2 settembre, questo non è affatto un buon inizio, ha detto. Nubicchia per il momento non è riuscita a diradare a pieno neppure l'impegno assunto dall'azienda in provincia giovedì scorso. Un atto dovuto più che un'apertura, secondo i rappresentanti regionali, quel quasi mezzo milione di euro messo sul tavolo ed erogare entro settembre per pagare una mensilità per ognuno dei dipendenti, con una trancia di 50.000 euro da rendere disponibile già in giornata. E questa è la dote con la quale si presentano gli assessori Capone e Leo Caroli, l'ultima arma per cercare di convincere i responsabili dei ministeri dello sviluppo economico e del lavoro ad una deroga, una soluzione eccezionale per trovare a Roma la copertura che manca per sette mensilità e che da sola l'azienda casaranese non riuscirebbe a supportare, visto che le cifre ammontano a circa 3 milioni e mezzo di euro. Se quel muro a Capitolino verrà balicato, gli operai potrebbero tornare a respirare. La strada sarebbe a quel punto tracciata. Il gruppo Filanto si è impegnato a ripresentare l'istanza di concordato preventivo, preliminare al riottenimento della cassa integrazione straordinaria per un altro anno, decaduta dopo il ritiro della precedente istanza nella scorsa primavera. L'ipotesi opposta lascerebbe a secco per tutti gli otto mesi arretrati, tutti 469 dipendenti e farebbe scoppiare sul territorio una patata bollente fatta raffreddare sempre in extremis. Una sorta quasi gemella, quella di un Fese e i suoi 96 operai, immobilitai con una procedura di fallimento in corso. Anche loro appesi a un filo che Tranitalia potrebbe decidere di recidere o riannodare una volta per tutte, revocando, lasciando a Trepuzzi l'ultima commessa da 4 milioni di euro non ancora ritirata.